Prendolini italiano, doppia trussione, due italiani fratelli gremelli verso Milano. Prima erano due fratellini svizzeri di operazione a comando multiplo, adesso sono due italiani a comando multiplo. Mi è arrivato all'improvviso, me ne sono visto alle spalle subito, quindi non ho potuto vederlo, prenderlo di muso. Grazie per la visione e salve a tutti.